Liberate! Vieta e limita l'espressione di mobilitarsi, l'espressione di dissentire a qualsiasi tipo di dinamica. Quest'autunno molte sono state le manifestazioni lungo il centro cittadino, a partire dagli studenti, a partire dalla FIOM, a partire dalle donne. Siamo fortissimi e quest'autunno lo libereremo, giorno dopo giorno, riprendendoci il centro cittadino per esprimere la libertà di movimento. Padova libera! Padova libera! Padova libera! Padova libera! Padova libera! Padova libera!